Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Per aggevolare la causa, il parlar bene di loro. Intanto, Cristof, grazie per esserti collegato nuovamente con noi. Grazie, grazie. Buongiorno da Bruxelles. Ben trovato. Alessio, che succede? Per il momento una notizia che riguarda il Qatargate è salita nella gerarchia delle notizie del giorno. Eva Kaili, l'ex vicepresidente del Parlamento europeo, hanno parlato poco fa i suoi legali. Sottoposta a tortura in carcere, al freddo, con la luce sempre accesa e senza possibilità di lavarsi. Avete anche voi informazioni su questa questione, Cristof? Abbiamo la stessa informazione dalla dichiarazione dell'avvocato. Ovvio dobbiamo verificare con la procura e gli inquirenti la veracità di questo. Voglio aggiungere che in Belgio è una notizia che si parla molto perché adesso in Belgio c'è il processo degli attentati di Bruxelles di qualche anni fa con Salah Abdeslam che è stato l'attentato di Parigi e di Bruxelles. E anche lui dice che nella sua carcere e da quando lo prendono del carcere per andare in tribunale è torturato. Dunque è un tema molto importante in Belgio ma ovvio non sappiamo ancora se questa cosa ha verificato. E certo va indagato e va verificato che sia un fatto vero. Un dato c'è però, hanno impedito a Kylie per quel poco che io ho visto di abbracciare la figlia di 20 mesi. Insomma mi sembra che sia un dato che obiettivamente faccia pugni con rispetto ai diritti fondamentali dell'individuo. E sono orgoglioso di dire che parlavamo prima di catture di latitanti. Noi in quegli anni alla procura di Palermo con il paese devastato dalle bombe dei mafiosi, la tentazione di violare le regole era forte, diciamo la verità. Non l'abbiamo mai fatto, ci siamo comportati sempre e li abbiamo arrestati con la forza dello Stato. Questo marca la differenza tra Stato e mafia ed è importante. Ah certo, distingue, distingue.